ben tornati amici ascoltatori noi siamo qui in questo spazio dedicato a le realtà a volte professionali a volte al confine tra il professionale e la ricerca personale dei nostri ascoltatori oggi abbiamo qui con noi sante pagano benvenuto sante grazie grazie per avermi ospitato allora sante parliamo di ufo hai una realtà online di divulgazione di queste tematiche su tutte le piattaforme facebook instagram youtube vorrei che ci raccontassi un po dove nasce il tuo interesse per questa tematica sì parliamo di ufo meglio dire forse parliamo di realtà extraterrestre perché ufo significa oggetto volante non identificato in realtà questi oggetti sono molto ben identificati soprattutto ultimamente poi magari ne parliamo anche dopo questa mia realtà divulgativa che ho scelto di chiamare progetto coscienza cosmica nasce circa otto anni fa quando ebbe un'esperienza molto particolare ebbi un avvistamento davvero straordinario lì poi un escalation di varie esperienze particolari non spiegabili da lì ovviamente come potrebbe fare qualsiasi normale essere umano mi sono messo alla ricerca e ho appunto fatto delle delle scoperte molto particolari sante togli una curiosità prima di questo evento di otto anni fa qual era il tuo rapporto rispetto a questa tematica ma sono sempre stato una persona con una mente abbastanza aperta non mi piace chiudere appunto la mia mente a eventuali situazioni possibili ero sicuramente curioso ma sai come quando non assaggi una mela non ne conosci il sapore quindi non ne hai consapevolezza e conoscenza di un determinato fenomeno e hai curiosità finisce lì se poi non vai avanti non hai prove come quando metti la mano sul fuoco e sai che quella scotta e ne prendi consapevolezza beh diciamo che ci sono dei fatti forse anche quelli relativi alle ultime dichiarazioni del pre dell'ex presidente degli stati uniti no che dice serenamente no ci sono dei fatti ovvero ci sono delle delle cose che non si spiegano però nel senso che parlano di mezzi volanti che hanno delle traiettorie per le quali non si può dire anche i più esperti in materia di oggetti volanti diciamo non sono in grado di dire che cosa siano e quindi rimane ancora nel nell'interrogativo poi ci sono una serie di persone che prendono molto seriamente questa ricerca e tu sembri essere uno di questi no sì mi piace fare ricerca non mi baso sicuramente su questioni di fede o credenze perché comunque sia siamo nel 2021 ed è ora che si inizia ad avere un approccio un po' diverso ecco non si deve trattare più di credenze o di fede ed è lo stesso rapporto che io posso avere riguardo magari la religione lo uso in tutte le varie diciamo in tutti i vari ambienti al quale posso approcciarmi quindi sì ci sono state delle delegazioni importanti da parte di Obama ma lo stesso Trump il quale ha chiesto la redazione di un rapporto su questi UFO 100 quasi 180 giorni fa ed è un rapporto che verrà pubblicato a momenti pubblicamente dall'America e l'America poi come sappiamo ha una importanza mondiale quindi tutto il mondo saprà cosa sapremo non lo so ho dubbi che dicano veramente realtà su questa la verità su questa realtà perché comunque sia è una realtà scomoda è stato ampiamente dimostrato che metterebbe in serie difficoltà i poteri mondiali che comunque sia hanno un sistema organizzativo sociale è ancora un pochino primitivo purtroppo e questa è una realtà assolutamente reale ci sono documenti ufficiali che lo dichiarano loro sanno che questa realtà appartiene a entità extraterrestri ed è da stupidi oggi dire che non esistono altre civiltà in un universo sconfinato si parla di molti versi cioè se noi soltanto contassimo ogni granello di sabbia esistente sui nostri deserti e spiaggi ci possiamo rendere conto che ogni granello è un sole presente in tutti i vari universi quindi come è possibile che soltanto il pianeta terra sia abitato magari siamo proprio speciali scherzo ovviamente moltissimo decisamente comunque sì ci sono documenti ufficiali addirittura se si parla di documenti ufficiali di ufficiali in che senso dei classificati se si va nel sito anche dell'fbi si possono trovare questi questi documenti dove addirittura si parla di questa realtà come una realtà esistente pacifica super tecnologica in grado di eh plasmare la luce in maniera a noi incomprensibile e se lo dicono loro sono stati dei classificati due tre mesi fa eh migliaia di documenti eh che riguardano queste realtà dove si parla anche di ritrovamenti di dischi volanti con corpi di alieni quindi ripeto non si sta parlando di credenze questa è scienza poi se vogliamo mettere in discussione anche i documenti che sono stati eh rilasciati questo è un approccio che sicuramente non mi appartiene poi ripeto eh tutto questo sicuramente unito ad una mia esperienza personale ad un mio ad un mio percorso poi ognuno è sicuramente responsabile della propria ricerca e delle proprie conclusioni assolutamente noi in questo spazio non abbiamo purtroppo tanto tempo da dedicare ma eh una abbiamo aperto una parentesi su questa tematica e invito i nostri ascoltatori a seguirti per approfondimenti sui tuoi canali social eh dove appunto ci sono dei veri e propri approfondimenti su queste tematiche youtube progetto coscienza cosmica eh instagram progetto punto coscienza punto cosmica e la pagina facebook è progetto coscienza cosmica trattino associazione culturale si tratta appunto di un'associazione culturale ci si può anche iscrivere assolutamente noi creiamo eventi di divulgazione facciamo ricerca soprattutto però vogliamo mirare a capire per noi è una realtà sodata che queste eh realtà questa realtà esiste noi vogliamo concentrarsi e capire il perché queste entità ci ci visitano il perché l'abbiamo capito molto bene loro da sempre ci aiutano nella nostra evoluzione sono presenti fin dalla dall'uomo sapiens eh sono molti documenti che lo dimostrano e fino ad oggi ci stanno appunto contattando perché il nostro pianeta in serie difficoltà eh la scienza addirittura oggi dice che il pianeta ha venti trent'anni di vita se continuiamo con questo sistema eh consumistico delle nostre risorse naturali del pianeta se non mettiamo fine all'utilizzo delle energie nucleari che ancora oggi ne sentiamo le conseguenze respiriamo quotidianamente le radiazioni già da eh l'esplosione di Hiroshima e Nagasaki sono tutte le varie eh patologie tumorali che oggi purtroppo presentiamo è ampiamente dimostrato che appartengono a queste radiazioni se ci pensiamo la la presenza di questa energia sul nostro pianeta è una pericolo un pericolo costante anche soltanto a possederli perché comunque sia eh purtroppo se dovesse scoppiare una terza guerra nucleare eh non siamo più eh con la tecnologia della prima e della seconda dove avevamo qualche missile qualche carrammato oggi eh potrebbero mettere fine all'intero sistema mondiale quindi queste entità che comunque sia ci tengono anche i loro pianeti eh ci stanno chiedendo datevi una calmata perché comunque siamo sudditi comunque no non c'è non c'è non c'è speranza sudditi di queste entità che però ancora eh non 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 la cui eh esistenza non viene pubblicamente dichiarata sudditi in che senso no eh come l'ha raccontata sembriamo di dei sudditi di questi di queste entità superiore no assolutamente no eh come se in casa tua viene un pazzo criminale ti vuole mettere delle bombe ti chiede gentilmente sicuramente di eh di tirarle fuori no quindi loro sono preoccupati per eh sicuramente eh questo pianeta ma anche per il loro eh le loro abitazioni che comunque sia sono anche nel nostro sistema solare quindi è normale perché eh uno deve avere il diritto di mettere a repentaglio la vita anche di persone innocenti e quindi sarebbe troppo troppo lungo conosco troppo poco su questa tematica dovrei farti tantissime domande purtroppo non abbiamo il tempo ti ringrazio però per questa parentesi invito i nostri ascoltatori che sono interessati ad approfondire la tematica a contattarti attraverso le tue pagine social e Sante grazie ancora per essere stato con noi alla prossima grazie e voi amici ascoltatori di On Air rimanete con noi per nuove interviste e nuove storie grazie a tutti